Altro che apertura al dialogo, il Comitato Golese Sicura si oppone in maniera totale all'inaugurazione del centro di accoglienza profughi nella ex scuola di Castelnuovo a Baganzola. Una presa di posizione espressa a chiare lettere ieri sera nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi nella sala civica del quartiere. Di fronte al prefetto Giuseppe Forlani è sintetizzata nelle scritte vergate su alcuni cartelloni esposti stamani nei pressi dell'ex palazzo comunale di Baganzola. Se lunedì pomeriggio, insomma, gli esponenti del Comitato al termine dell'incontro ottenutosi con lo stesso prefetto a Palazzo Rangoni erano apparsi piuttosto collaborativi, ora invece è prevalsa la linea dura della contrarietà. Tra le misure che potrebbero essere messe in campo dallo stesso Comitato, anche un presidio permanente davanti all'ingresso della struttura per impedire l'arrivo dei profughi. Alla serata hanno partecipato oltre 100 persone, mentre le firme raccolte dallo stesso Comitato per dire no al centro profughi hanno superato quota 1.300. Come detto, ieri sera è intervenuto anche il prefetto Giuseppe Forlani, che ha tentato di rassicurare la popolazione, garantendo, come già fatto nei giorni scorsi, che saranno messe in atto tutte le azioni di sicurezza e di salvaguardia igienica. Una posizione la sua che però non ha convinto i presenti. E scintille ci sono state anche con i rappresentanti delle associazioni di volontariato che dovrebbero occuparsi direttamente della gestione dei profughi. Ad intervenire inoltre nel corso della serata anche il leader parmigiano di Casa Pound, Pierpaolo Mora. Un coinvolgimento, quello del movimento di estrema destra in questa partita, che però non sembra essere gradito a tutta la popolazione di Baganzola e per questo, sul tipo di battaglia da condurre, ci sarebbero alcune divergenze e alcune frizioni tra lo stesso fronte del no. Secondo le intenzioni delle istituzioni, l'attivazione del centro profughi è imminente. Una volta completati alcuni interventi nell'edificio, saranno ospitati una cinquantina di stranieri.